Raccontiamo l'episodio di cui sei stato protagonista, purtroppo non in positivo, questa mattina. Sì, questa mattina praticamente mi trovavo qui in questa zona, ero qui al tabaccaio, qui vicino, per fare una ricarica e praticamente andando via dal tabacchino sono arrivato in questa zona per poter transitare e poter uscire da quest'area privata e mi sono trovato una macchina davanti dell'Asur, praticamente malmessa. Che ti impediva di scendere dalla rampetta picca. Esatto, parcheggiata veramente in barbaro modo. E quindi mi sono apprestato a chiamare i vigili urbani, dopo 3-4 minuti è uscita fuori la dipendente, una collaboratrice dell'Asur che ha detto chiedo scusa, ma ahimè non me ne ero accorta, avevo da portare del materiale di medicazione urgente quindi praticamente non mi sono accorto di questo. Però effettivamente la rampa accessibile per noi non è piccolina, è un bel po' grande. E quindi ho detto non mi dico che non l'ha vista, insomma. Ecco, c'è da dire anche che questa è una zona con degli ambulatori qui a fianco, sono i poliambulatori quindi è una zona di transito, quindi tu vorresti lanciare un appello per una maggiore attenzione a questo riguardo. Esatto, esatto. Voglio lanciare un appello non solo a riguardo mio. Oggi mi sono trovato io, però poteva anche trovarsi un ragazzo, un'altra persona, magari anche con una carrozzina manuale o elettrica che avrebbe avuto lo stesso tipo di disagio e siccome in questa zona parecchie volte io ci passo e transito e spesso già 3-4 volte, 3-4 episodi di questo tipo li ho già visti e oggi non me la sono sentita di non segnalarlo. A onore del vero va detto che comunque una buona segnaletica orizzontale non guasterebbe per far capire meglio a chi parcheggia in questa zona che è vero che qui inizia la zona delimitata per il parcheggio ai portatori di handicap, qui inizia la rampa però il dislivello dal manto stradale non è segnalato benissimo, quindi alle volte, inavvertitamente, ci si può parcheggiare davanti. Grazie. Grazie.